Ben ritrovati al nostro corso sugli script bash e siamo arrivati giunti alla lezione 11, nel quale parliamo di un costrutto molto utile e importante che è costituito dalle funzioni. Allora, vediamo un po'. Cos'è il vantaggio di suddividere il nostro codice in funzioni? Lo rendiamo più flessibile, lo rendiamo più leggibile, più ordinato, poiché raggruppiamo, possiamo raggruppare in parti di codice, appunto, chiamate funzioni, un certo compito di questa parte di codice, quindi diventa subito più chiaro. E lo rendiamo più razionale, quindi evitando di replicare più volte magari lo stesso codice all'interno dello script e quindi possiamo raggruppare queste istruzioni, questi comandi, in un unico punto. E poi da altre parti del codice possiamo richiamare quel gruppo di comandi lì e farglielo semplicemente eseguire, evitando di replicare proprio la stessa coppia degli stessi comandi in più punti del codice, del nostro script. E poi ovviamente di conseguenza sarà anche più facile manutenzionare il nostro codice dello script perché avendo delle funzioni che ci permettono di avere un esemplare unico di quella parte di codice, se dobbiamo modificare quella parte sappiamo già che andremo a modificare quella funzione e il tutto si ripercuoterà in tutto il codice senza dover andare a cercare in più parti a fare la stessa, scusate, modifica. Quindi vedete che le funzioni hanno veramente una importanza notevole, naturalmente sempre il discorso vale per degli iscritti un po' corposi, naturalmente se è una semplice macro, come ho già detto in altre lezioni, non è il caso di complicarci la vita, però quando la vita si complica da sola perché lo script comincia a diventare lungo con centinaia di righe, ecco, allora le funzioni hanno la loro utilità, hanno il loro potenziale per rendere il tutto molto più gestibile e leggibile. Quindi le funzioni sono un crostrutto appunto che permette di richiamare un pezzo o una parte di codice da altre parti dello script e le funzioni possono avere o meno dei parametri a loro volta, quindi noi possiamo avere delle funzioni semplicemente che richiamiamo e ci aspettiamo che eseguano determinate operazioni o che ci ritornino magari un risultato, così come abbiamo delle funzioni che si aspettano dei parametri di input iniziali per poter svolgere il loro lavoro, quindi possono esserci due forme di funzioni. E attenzione, la dichiarazione delle funzioni, ovvero le funzioni all'interno del codice dello script devono essere posizionate davanti per prime, perché come abbiamo già detto nelle prime lezioni, se non addirittura nella prima, gli script bash sono interpretati dall'inizio verso la fine e quindi le funzioni dal motore della shell bash che interpreta i nostri comandi devono essere lette prima in modo che vengano messe nella memoria del nostro computer e possano essere richiamati nelle parti successive del codice. Quindi niente di complicato ma solo da tenere presente, quindi quando abbiamo un codice organizzato con delle funzioni, quando apriamo questo script bash ci ritroveremo all'inizio le funzioni e quindi per trovare la parte di codice principale che richiama e che usa queste funzioni dovremo scorrere il codice verso il basso ovviamente, lo troveremo più sotto, come vedremo fra un attimo qui nel nostro script che accompagna la lezione 11. Un'ultima cosa prima di passare proprio alla pratica e vedere un po' tutto quanto detto qua, le funzioni possono essere ricorsive, cosa vuol dire ricorsive? Che possono richiamare se stesse, quindi una funzione al suo interno nel codice può avere il suo stesso nome, questo vuol dire richiamo me stessa e ricomincio e questo è molto utile, può essere molto utile, per esempio quando occorre forzare l'utente a fare una certa operazione che se non viene fatta la funzione può essere richiamata se stesse e si ripropone fin quando non è soddisfatta una determinata condizione viene riproposta questa funzione, non va bene, mi richiamo me stessa, va bene, posso uscire e tornare al codice principale dello script. Ecco, è molto importante, anche nel nostro esempio finale che vi proporrò alla fine del corso e che commenteremo alla fine del corso, che vi ho mostrato diciamo proprio in un'anteprima brevissima all'inizio, nella prima lezione, ho sfruttato parecchio il fatto delle funzioni ricorsive per creare certe parti di codice che vedremo. La sintassi è molto semplice, la sintassi del comando funzione è appunto il nome della funzione, parentesi tonda, chiusa parentesi tonda e poi tra parentesi graffe tutto il codice necessario della funzione, tutto lì, quindi in sé la sintassi è veramente molto semplice, rispetto alla potenzialità delle funzioni è una cosa banale. Vediamolo qui in pratica. Allora, prima cosa, ho detto che le funzioni devono essere dichiarate prima del corpo principale dello script che poi usa queste funzioni, perché il motore bash le interpreta, le legge e le mette in memoria prima di arrivare alla parte principale del codice bash, dello script. E in effetti qui vedete che in questo esempio, nel nostro script che accompagna la lezione 11, abbiamo delle variabili di cui parliamo fra un attimo, ma vedete che subito partiamo con le funzioni, con la sintassi che abbiamo detto qui. Quindi c'è una funzione che si chiama mia fun, parentesi parentesi, graffe che si chiude qui, quindi questa funzione ha questi comandi, poi c'è un'altra funzione mia fun par con il suo codice, un'altra funzione ancora mia fun ric col suo codice e poi che cosa? Ecco qua il commento, codice principale dello script e qui effettivamente la vera logica, la distribuzione dell'uso delle funzioni è qua. Tutto quanto precede questo commento è, diciamo così, preparazione, cioè è parte di codice che serve tutto quanto segue questo commento, ma che deve essere letto dal motore bash prima e quindi in questo momento quando il motore bash arriverà qui, a interpretare il nostro script bash, il nostro codice, avrà già messo nella memoria del nostro computer questa parte di codice per poi essere richiamata ed eseguita, tutte queste funzioni. Quindi ecco, quando usate le funzioni il codice dello script sarà organizzato sempre in questo modo, quindi tutto ciò che ci bisogna prima e la logica effettiva del codice e dello script dopo, alla fine. Detto ciò, andiamo a vedere come sono impostate le funzioni che poi verranno richiamate qui, in fondo. Allora, variabili, ecco, qui parlo di variabile globale, perché variabile globale? Perché una variabile definita, dichiarata al di fuori delle funzioni è una variabile che è riconosciuta in tutto il codice dello script, sia al di fuori delle funzioni, ovviamente come abbiamo sempre fatto finora in tutti gli esempi. Siamo alla lezione 11, abbiamo visto 10 esempi di codice, abbiamo sempre usato le variabili e le abbiamo sempre definite qui direttamente a livello dello script vero e proprio. In questo caso, avendo un nuovo oggetto che è la funzione, dobbiamo prestare un attimino attenzione a dove definiamo queste variabili. Se sono definite fuori dalla funzione, sono definite come variabili globali, perché sono riconosciute sia dentro sia fuori dalle funzioni. Quindi questa GloVar può essere usata qua in basso nella logica principale dello script, così come dentro ognuna di queste funzioni, se necessario. In effetti, per esempio, vediamo che la prima funzione qui, MiaFun, ha GloVar usata, impostata all'interno. Ed è la medesima porzione di memoria del PC occupata da questa GloVar, dichiarata qua fuori vuota per il momento qua fuori, poi viene usata all'interno delle funzioni, vedete, viene valorizzata, caricata con un valore all'interno di questa funzione. Comunque, appena viene definita qui, la variabile occupa la sua celletta di memoria del nostro PC, idem per questa, output uguale a 0, un'altra variabile, e entrambe sono dette globali, perché valgono per tutto lo script, all'interno o all'esterno delle funzioni. Al contrario, vediamo proprio l'esempio qui di questa prima funzione, c'è una variabile definita come local. Ecco, al contrario di globale, questa è locale. Ci vuole questo comando local, seguito dal nome della variabile, locVar uguale a 1255. Ecco, questa locVar è riconosciuta solo e unicamente all'interno di questa funzione. Quindi la locVar non è utilizzabile. Quella locVar, proprio questa, che occupa la sua celletta di memoria del PC, è ad esclusivo uso di questa funzione miafun. Non è riconosciuta né nelle altre funzioni, né nella parte principale del codice. Quindi è proprio locale, usata solo nell'ambito di questa funzione. Quindi, voilà, distinzione, variabile globale per tutte, variabile locale specificatamente per una funzione. Voilà. E ecco, questa funzione, non credo faccia granché, visualizza video un paio di messaggi. Questa è la funzione miafun, eco, eco. Imposta il nome di se stessa, diciamo, della funzione, nella variabile globale, gloVar. Nella variabile output, quindi globale, mette il valore della variabile locale, locVar, per, diciamo, mettere a disposizione questo valore a tutto lo script e esce con un comando return, cioè ritorna, con un codice 5. Voilà, perché a noi serve che ci ritorni questa funzione, il valore 5. Ecco, questo è un valore intero, semplice, quindi il comando return accetta un valore che arriva al massimo a 255. Quindi abbiamo da 1, da 0, probabilmente da 0, fino a 255, possiamo avere tutti questi possibili codici di ritorno della funzione. Cosa succede? Se viene richiamata questa funzione, andiamo giù nel codice principale, che noi adesso avviamo lo script, giustamente, se no non riesco a mostrarlo, facciamo enter, voilà. Allora, codice principale dello script, quindi naturalmente ho avviato lo script 11.sh, tutta questa parte di codice, dal clear in giù, è già stata letta e interpretata dal motore bash, non ci sono stati errori, quindi siamo arrivati all'eco, il primo eco della parte principale dello script. e questo qui è semplice un messaggio con su, sto per richiamare la funzione mia fun, poi ho messo una pausa col comando read e vedete richiamo mia fun. Adesso sotto il richiamo della funzione, ecco, il richiamo di una funzione è fatto semplicemente mettendo il suo nome, così in una riga, in una riga per conto suo del codice, senza parentesi, senza niente, è sufficiente proprio mettere il suo nome, mia fun, quindi faccio enter, ecco qua, abbiamo richiamato la funzione mia fun. Cos'è successo? È successo che la funzione mia fun ha eseguito questi due comandi eco, che sono questi, questa è la funzione mia fun, con i vari dash, qui la riga di dash, poi ha impostato le sue variabili, il codice di ritorno 5, vediamo un po', andiamo in fondo, fuori, una volta terminata l'esecuzione della funzione mia fun, posso fare il mio eco con il codice di ritorno, con una sintassi particolare, vedete, questa qui è tra virgolette una variabile predefinita di sistema, dollaro punto di domanda, che ritorna il codice di ritorno dell'ultimo comando eseguito, quindi dollaro punto di domanda, tenete presente, è prefissato così, la sintassi è così, è previsto così, dollaro punto di domanda serve a tornare il codice di ritorno dell'ultimo comando eseguito, in questo caso l'ultimo comando eseguito è una nostra funzione, che ha specificatamente, esplicitamente impostato un codice di ritorno uguale a 5, e quindi questo dollaro punto di domanda ci ha tornato il 5, che magari nel resto dello scritto a noi serve per prendere una certa decisione, quindi se quella funzione torna 5 facciamo una cosa, se tornasse 10 facciamole un'altra, ecco per intenderci. In questo caso vi ho solo messo l'esempio per vedere come si interroga il codice di ritorno della funzione, cioè come faccio a sapere come è andata a finire l'esecuzione di quella funzione, col dollaro punto di domanda lo so, ecco, 5, poi la variabile globale, metto a video, visualizzo anche il contenuto della variabile globale che vediamo che contiene il nome della funzione, perché la funzione gli ha assegnato quel valore, essendo una variabile globale, è riconosciuta sia all'interno della funzione sia all'esterno, in effetti vediamo che il valore è proprio quello assegnato all'interno della funzione. La variabile locale, vedete che qui proprio per mostrarvi che è riconosciuta solo all'interno della funzione, io ho provato comunque a visualizzare il valore di questa variabile locvar, che nella funzione era stata definita come local, quindi valida solo all'interno della funzione, e logvar uguale a niente, perché in realtà per il resto dello script che stiamo eseguendo, questa qui non è una variabile definita, non è stata né impostata né niente, non esiste, vedete, è uguale a niente, e l'output, cioè la variabile globale output, questa, che è stata impostata con il valore 1255 della variabile locale, all'interno della funzione naturalmente, però essendo output globale, questo sì che posso visualizzare il contenuto della variabile output che è 1255, che ci riporta fuori a livello globale il valore della variabile locale della funzione. Et voilà, questo spero di essere stato sufficientemente chiaro nelle mie spiegazioni, non è una cosa difficile, ma come sempre è spesso più difficile spiegarla che dimostrarla, il meccanismo di richiamo delle funzioni, di verifica del codice ritorno, eventuali variabili globali impostate alle funzioni, eccetera, eccetera, variabili locali, è tutto qua. Adesso i prossimi esempi aggiungono qualcosa in più o meno, ma il meccanismo è pur sempre quello. La prossima funzione che sto per richiamare è miafunpar, quindi vediamo più rapidamente gli altri esempi, miafunpar che cosa ha di diverso rispetto a quella precedente, che quella precedente è senza parametri, quindi è stata richiamata miafun e ci ha ritornato un certo codice di ritorno o certi valori. La miafunpar è una funzione che prevede due parametri. I parametri in una funzione sono intercettati all'interno della funzione da due modalità sintattiche che abbiamo già incontrato nella lezione precedente, i famosi $1, $2, $3, $nx. Sono appunto una modalità sintattica per gestire, leggere, scrivere, scusate, leggere, dei parametri preconfezionati praticamente, quindi $1 posizionalmente è il primo parametro, $2 il secondo, $3 il terzo e così via. Come facciamo a richiamare questa funzione che si aspetta a questi parametri? Quindi all'interno, come vedete, li usa per questo comando echo, poi qui c'è un if, if $1 uguale a pippo fai qualcosa, se no fai qualcos'altro. Allora noi impostiamo e come facciamo? Parametro 1 pippa, parametro 2 paperina e richiamiamo la mia fun par, spazio, $1, $2, ecco, posizionalmente quindi il primo parametro per primo, il secondo per secondo. La mia fun par viene richiamata, sa, si aspetta che posizionalmente il $1 è il parametro 1, il $2 è il parametro 2. Facciamo enter, allora, la funzione è stata richiamata, questo echo viene eseguito e vedete che questa è la funzione min fun par con parametro 1 pippa, vedete che gli è arrivato giusto, e parametro 2 paperina, quindi posizionalmente $1 e $2 contengono in questo momento i due parametri, quindi li abbiamo in canna, come si dice, quindi la nostra mia fun par ha questi due parametri. poi fa un paio di assegnazioni di variabili come già la funzione precedente e poi qui valuta il primo parametro, quindi se il parametro $1 è uguale a pippo, che non è il caso perché è pippa, avrebbe eseguito, e non l'ha fatto, avrebbe eseguito questo echo, l'elaborazione termina qui, exit e basta. Invece non essendo pippo fa l'else e ritorna un codice ritorno 10, infatti vediamo che il codice ritorno della nostra funzione par è 10 perché ha eseguito questa parte di codice. l'interessante di questo esempio è vedere come si fa ad uscire immediatamente da una funzione con il comando exit, in qualsiasi punto del codice all'interno di un blocco funzione si può uscire, terminare l'esecuzione immediatamente con exit, quindi appena incontra questo comando il bash esce dalla funzione e torna fuori. Possiamo magari anche provarlo, perché no? Quindi deve essere pippo il primo parametro, cambiamo da pippa in pippo, salviamo il nostro script, facciamo ctrl c per interromperlo e riprendere da capo, quindi la prima funzione, la seconda funzione, ecco vedete, questa volta il comportamento è diverso della funzione, perché? Perché il primo parametro adesso è diventato pippo, eccolo qua, l'if ha riconosciuto che nel primo parametro c'è pippo e ha detto l'elaborazione termina qui e poi ha fatto exit immediatamente ed è uscito, cioè qui c'è una pausa, faccio enter ed è uscito immediatamente, proprio exit da tutto, attenzione vedete qui lo script si è interrotto, non solo dalla funzione, ma è proprio uscito da tutto lo script bash, quindi completo la mia spiegazione che ho dato un attimo fa, exit proprio termina lo script completamente, esce dalla funzione ed esce anche da tutto lo script, non solo dalla funzione, ecco quindi questo è stato magari frainteso prima, exit è proprio drastico, termina addirittura tutto lo script, vedete che siamo usciti, ecco qui però mettiamo di nuovo pippa, se no non riusciamo ad andare avanti con il nostro esempio, rapidamente, quindi riprendiamo, prima funzione, seconda funzione, che questo punto ci permette di andare avanti, mia fun ric, quindi il terzo esempio di funzione, ed ultimo, è un esempio di funzione ricorsiva, quello di cui ho parlato qui nella nostra teoria prima di vedere l'esempio, funzione ricorsiva, cosa vuol dire? Che la funzione può richiamare se stessa, e qui cosa ho impostato? Ho impostato una variabile globale, attenzione, globale, esterna, conta uguale a 1, questa variabile globale ci serve, in questo specifico esempio, per gestire la verifica interna alla funzione, per sapere se questa funzione deve richiamare se stessa, oppure se non deve più richiamare se stessa e smettere di funzionare in questo modo, cosa succede? All'interno c'è un if che verifica che la variabile conta sia minore di 10, allora partiamo con un valore di 1 inizialmente, e in effetti è minore di 10, quindi entra e mette a video, visualizza a video questo paio di eco, ciclo, numero, un valore di conta per questa funzione, avanti, avanti, poi aumenta conta di 1, e ecco qui l'interessante richiama se stessa, quindi nel mio spezzone di codice principale dello script, almeno una volta la devo richiamare questa funzione, quindi qui la richiamo, che poi quello dopo l'enter qui che farò verrà richiamata, appena viene richiamata, parte col variabile conto uguale a 1 e inizia a fare il suo lavoro, quindi conta verrà aumentato di 1, aumentato di 1, ogni volta gira, gira, gira per 10 volte, finché la variabile conta non sarà più minore di 10, quindi uscirà da sola questa funzione e avrà finito il suo lavoro. La cosa molto importante da sottolineare è che conta deve essere esterna alla funzione, ovviamente, globale, perché dico ovviamente? Perché quando la funzione viene richiamata, richiama se stessa, naturalmente riparte come se fosse nuova, e riparte e si richiama se stessa, esegue esattamente le stesse istruzioni, gli stessi comandi come da zero. Se la variabile conta fosse locale, verrebbe reimpostata ad 1 anche quella, quindi sarebbe eterno, infinito, non uscirebbe mai più questa funzione, quindi è importante che ci sia un aggancio esterno se vogliamo fare delle verifiche di questo tipo, perché conta deve essere indipendente dal richiamo della funzione su se stessa, ovviamente, questo è logica, è ovvio, l'avrete capito, però, ecco, ve lo dico, lo sottolineo, casomai, l'errore magari più comune può essere di impostare il conto internamente e vedete che non esce più. Allora, facciamo Enter, ecco qua, richiama la funzione ricorrente, ricorsiva, scusate, vedete che i due eco qua, ecco poi tutte le righe delle righettine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perché abbiamo detto che deve andare avanti finché è minore di 10, quindi arriva dall'1 al 9, ed ecco qua, ho terminato con gli esempi e avete capito, avete visto come possono essere potenti e comode le funzioni per isolare in un punto specifico, per raggruppare in un punto specifico una serie di comandi, una parte di logica che può essere sia richiamata su se stessa, quindi ricorsivamente, sia richiamata più volte nella parte principale dello script, quindi nulla mi vieta di chiamare 100 volte la funzione mia, fun, a seconda di condizioni particolari, in un while, in un if, in un until, in un for, qualsiasi cosa, quindi la funzione lì, in memoria, una volta che è stata interpretata dal comando bash, qua in cima, la funzione lì pronta e disponibile ad essere richiamata quante volte vogliamo. Ecco, con questo direi che abbiamo concluso anche questa lezione numero 11, quindi vi ringrazio sempre per l'attenzione, un saluto e alla prossima lezione.